barriera a quota 28 e quindi si riformerebbe un quartetto nel quale cambierebbe una delle protagoniste palestrina anziché audace in caso di parità cambierebbe poco o nulla perché il Gaeta si posizionerebbe in seconda posizione da sola con un punto su Atletico Lodigiani e Casalbarriera, il Palestrina salirebbe a quota 26 a ridosso di questo gruppo di squadre che sta seguendo in vano in questo momento la Osonia che comunque anche quando non vince comunque non perde, è il secondo passo falso della Osonia in casa dopo quello fatto nelle prime giornate con l'Atletico Lodigiani di contro però ci sono anche sette vittorie in casa che testimoniano la forza della squadra del basso Lazio. E allora prima di passare alla promozione è terminato il primo tempo da Brescia e Lazio risultato sull'1 a 1, al diciottesimo ha segnato Mario Balotelli poi in quattro minuti Cistana si è fatto espellere con un doppio giallo al minuto 35 e 39, al quarantaduesimo è arrivato il pareggio di Immobile su calcio di rigore quindi risultato sull'1 a 1. Ci spostiamo in promozione, girone A, questi risultati di oggi. In attesa di vigore acquapendente Almas e Tolfa Canale Monterano la classifica vede il Cerveteri a 39 al primo posto seguito dal Fiumicino a quota 37 punti, il Tolfa terzo a 33, poi Nuova Pescia Romana a 31, Luis a 30, Canale Monterano e Grifone Gialloverde a quota 28, Vigore acquapendente a 26, Almas e Fregione Maccarese 24, Bomarzo e Santa Manella a 18, Montalto e Ronciglione a 17, Montefiascone e Montemario a 15, CSL a 8, Don Gallese a 3. Nel girone B invece BF Sport e Vissubiaco a 2 a 3, Larustica Momentum a 2 a 0, Sant'Angelo Romano Fiano a 1 a 0, Riano Guidogna a 3 a 2, Vigovaro Passo Gorese a 0 a 0 e Zena Cantalice 0 a 1. In attesa di Amatrice Certosa, 7 bagni Novauto e Football Sporting Montesagro, la classifica vede la Rustica Campione d'Inverno a quota 38 punti, Sant'Angelo Romano a 37, poi la Vissubiaco a 31 e il Vigovaro a 30, Zena e Momentum a 28, Fiano Romano e Riano a 27, BF Sport e Cantalice a 23, Novauto e Passo Gorese a 21, 7 bagni a 19, Football Montesagro a 18, Guidogna a 17, Amatrice a 12, Sporting Montesagro a 10 e Certosa a 9. Nel girone C, Atletico a Ciglia Palocco a 2 a 0, Pescatori Ostia, Ostia Antica a 2 a 2, San Baudia Centro Sportivo Primavera a 1 a 2, Santa Maria delle Molle V3 Roma Team a 1 a 3, Terracina Fonte Meravigliosa a 4 a 0 e Virtus Ardea in nomi da Pomezia a 1 a 1. Quest'ultimo non avevamo dato il marcatore degli nomi da Pomezia, è stato Medea al 76esimo minuto. La classifica, la V3 Roma Team a quota 44 alla dodicesima vittoria consecutiva, prima in classifica a più 3 dal Terracina secondo a quota 41, poi in nomi da Pomezia a 36, Centro Sportivo Primavera a 35, Pescatori Ostia a 30, Santa Maria delle Molle a 28, Palocco a 23, a 22, Atletico Benzizza e Nuovo Costa Latina, a 20, la Polisportiva De Rossi a 19, il Montesambiaggio, Atletico Ciglia a 18, Ostia Antica a 17, Fonte Meravigliosa a 15, Pian Due Torri a 14, a 13, Rodolfo Moranni, Sabaudia e Virtus Ardea. Nel Gironedì concludiamo questo riepilogo, Alatri Giardinetti 0 a 3, Atletico Morena, Monte San Giovanni Campano 0 a 2, Zagarolo Cervaro 0 a 1, Lodigiani Roccasecca 3 a 2, Pirotecnico 5 a 4 tra Lupa Frascati e Atletico Torrenova, Real Cassino con Leferro 1 a 0. La classifica vede il Monte San Giovanni Campano a quota 38 punti, primo in graduatoria, poi la Lupa Frascati a 35, il Ferentino a 34, il Cervaro a 33, Atletico Torrenova 31, Anitrella e Atletico Morena 26, Colleferro 24, Roccapriora 23, Tecchiena 21, a 20, Roccasecca, Zagarolo e Real Cassino, a 17, il Ceccano a 12, Torreangela, Lodigiani e Giardinetti, a 9, la Latri. Direi che in promozione non ci sono stati grossi sconvolgimenti o grosse sorprese. Nel girone A di promozione vincono le prime, vince il Città di Cerveteri sull'ostico campo di Ronciglione per una rete a zero, vince più facilmente e più largamente il Fiumicino sul proprio campo al cospetto del Bomarzo. il Tolfa impegnato nel pomeriggio, nell'incontro casalingo con il Canale Monterano, un match non facile perché il Canale Monterano si è dimostrato fino adesso un'ottima squadra, vincendo manterrebbe le distanze da Fiumicino e da Città di Cerveteri, quindi nulla di particolarmente nuovo o interessante in questo girone. Così come nel girone B di promozione, vincono le prime due della classe, la Rustica che era in testa al girone e come hai detto tu Paolo, si laurea campione d'inverno, vince 2 a 0 sul Momentum, le reti tutte entrambe nella ripresa, vince, faticando forse di più rispetto alla Rustica, la Polisportiva Sant'Angelo Romano in un scontro diretto con il Fiano Romano, Fiano Romano che avrebbe dovuto fare il risultato, il risultato pieno, per rilanciarsi in prospettiva futura. Frena, vince anche la Vis Subbiaco, l'unica squadra delle squadre di testa che fa un mezzo passo falso è sicuramente il Vicovaro che pareggia in casa 0 a 0 sorprendentemente con il passo corese, squadra da rispettare ma certamente alla portata della squadra sulla via di Burtina, quindi è un risultato un po' sorpresa questo del pareggio del Vicovaro. Per il resto, come dicevamo, nulla di particolarmente importante, possiamo segnalare sicuramente la sconfitta interna dello Zena Monticello per opera del Cantalice, Zena Monticello che fino a qualche domenica fa tuttora è una buona posizione ma fino a qualche domenica fa aveva ambizioni ancora più grandi di quelle che probabilmente si era posto il sodalizio di Burtina all'inizio stagione. Nel girone C di eccellenza, come dici tu, dodicesima vittoria consecutiva per la V3 Roma Team seppur avesse iniziato male il match in quanto si trovava sotto per 1 a 0 sul campo del Santa Maria delle Mole. risponde alla vittoria della V3 Roma Team il Terracina con un netto 4 a 0 sul Fonte Maravigliosa un risultato maturato già nei primi 20 minuti del match perde colpi l'indomita Pomezia che pareggia sul campo dell'ultima della classe la Virtus Ardea che con questo risultato di parità con l'indomita Pomezia sicuramente potrebbe prendere morale per il suo obiettivo che è quello della salvezza e aggancia anche il Sabaudia che ha perso in casa con il centro sportivo Primavera e attualmente ha agganciato anche il Real Morandi anche se il Real Morandi dovrà giocare nel pomeriggio sul campo della post sportiva De Rossi. Per finire andiamo al girone di promozione dove vince il Monte San Giovanni Campano vince la Lupa Frascati in un pirotecnico 5 a 4 con l'atletico Torrenova in una sorta di spareggio tra le due squadre per l'obiettivo della seconda posizione le due squadre prima di questo match erano divise da un solo punto giocherà nel pomeriggio il Ferentino che sarà impegnato tra le mure amiche contro il Tecchiena vince l'atletico Cervale sul campo del Zagarola e mantiene la scia delle squadre che lo precedono. Quindi direi che la promozione forse rispetto all'eccellenza ha portato meno sorprese in eccellenza c'è stata qualche sorpresa in più che poteva pure essere preventivata in tali casi però qualche cosa di diverso sicuramente più sorprendente c'è stata in eccellenza rispetto alla promozione che è andata via in maniera abbastanza liscia e tranquilla rispettando come se era chiuso l'anno 2019. E allora in attesa del commento generale di Massimiliano Canalire che poi troverete nel pomeriggio insieme a Fulvio Ventura per Dicome Domenica passiamo al settore giovanile e andiamo a dare le gare degli allievi dell'Under 17 girone A la Dispoliportiva Carzo 1-1 al Balonga Orbetevere 1-2 Falasche Lavigno Pro Calcio d'Orza Pienza 1-2 Palocco Grifone Monteverde 1-1 Pro Cisterna Montespaccato 1-2 Santi Michele Donato Certosa 0-0 e Vigor Perconti Atletico Terme Fiugi 2-2 In attesa di Romule a Ostiamare la classifica avete la Vigor Perconti a quota 39 poi Ostiamare 33 ma con una gara in meno la Dispolia a 30 Urbeteveri a 28 Pro Calcio d'Orza Pienza 27 Romule a 25 anche lei con una gara in meno Albalonga 23 Montespaccato 20 Certosa 18 Polisportiva Carzo 16 Palocco 14 Grifone Monteverde 13 Santi Michele Donato 12 Atletico Terme Fiugi 11 Pro Cisterna 9 e Falasche 8 Nel girone B Ponte di Nona CSS Tivoli 4-1 Giardinetti Innovator 3 teste 1-1 Ottavia Savio 0-1 Torza Pienza Accademia Calcio Roma 2-1 Trastevere Atletico 2000 4-1 in attesa di Anagne Monterosi Città di Ciampino Villalba e Tordi Quinto Lodigiani la classifica vede il Città di Ciampino insieme alla Nona Tor 3 teste a quota 32 al primo posto poi Savio a 31 Trastevere 30 Tordi Quinto 27 Lodigiani e Atletico 2026 Ponte di Nona 20 Torza Pienza 17 Villalba e Anagni 16 Ottavia 15 Giardinetti e Accademia Calcio Roma a 13 CSS Tivoli 9 e Monterosi a 5 Ricordiamo che era l'ultima giornata del giorno di andata anche per allievi e giovanissimi vale il discorso fatto per eccellenze e promozione dunque Nell'Under 15 Girone A la Dispo dell'Atletico 2000 1-2 Albalonga Urbetevere 1-1 Aurelio Monterosi 4-0 Ostiamare Totti Socce School 1-2 Ottavia Grifone Monteverde 1-4 Romule Campuseure 0-1 e Savio CSS Tivoli 2-1 In attesa di Novador 3-3 Test Atletico Terme Fiuggi La classifica vede la Grifone Monteverde a quota 40 primo in classifica poi Novador 3-3 Test a 39 ma con una gara in meno Urbetevere a 34 Campus Euro a 26 Savio a 22 La Dispo di Ottavia a 21 Ostiamare Totti Socce School e Romule a 19 Atletico 2018 Albalonga a 15 CSS Tivoli a 11 Aurelio e Monterosi a 8 Atletico Terme Fiuggi a quota 7 Fanalino di coda Nei giovanissimi Girone B Colleferro Accademia Frosinone 1-1 Lodigiani Tordiquinto 1-3 Polisportiva Carzo Procalcio Torzapienza 2-0 Sanza Santi Michele Donato 4-0 Trastevere Grifone Giallo Verde 7-0 Vigor Per Conti Cassino 4-1 Aspettando Aprilia Racing Club Giardinetti e Città di Ciampino Accademia Calcio Roma La Gratatoria vede il Tordiquinto Primo a quota 36 punti seguito dall'Accademia Calcio Roma a 35 e dal Giardinetti a 33 con queste ultime due squadre che devono ancora giocare Vicora Per Conti e Polisportiva Carzo a quota 28 sono al quarto posto in classifica poi Cassino a 24 via via tutte le altre Lodigiani 22 Procalcio Torzapienza 21 Aprilia Racing Club Sanze Città di Ciampino 18 Trastevere 14 Accademia Frosinone a 13 Colleferro a 7 Santi Michele Donato a 6 e Grifone Giallo Verde a quota 5 Per concludere il nostro commento alla giornata giocata oggi di eccellenza io sentirei un'altra volta Massimiliano Cannalire vediamo se può rispondere Ben trovati da Max Cannalire incredibile l'esito del Francesco Gianni non per il valore in campo certamente l'Atletico Ligiani è una grandissima squadra ma per come è maturato due le fotografie che identificano al meglio una partita equilibrata e giocata con gagliardia con orgoglio da parte dell'Arce ma anche con troppa foga nel tentativo di ricostruire le azioni che hanno portato due volte al Parigio e dall'altra parte con maggior ordine in fase di costruzione quasi se una squadra di geometri e ingegneri quella di Marco Di Rocco che commette ancora una volta durante la diciassettesima e ultima giornata del giro è andata l'errore di specchiarsi di tale bealtà dottor Giochini mister e che l'abbiamo definita durante la radiocronica di una partita iniziata nel tabellino con i gol di due terzini il primo dei quali Boninsegna ha percorso ben 50 metri senza palla sulla corsia di propria pertinenza alla destra per sfruttare al meglio un attraversone obliquo dalla sinistra di Marco De Mofonti era il 25esimo del primo tempo al 39esimo pace dalla sinistra imbeccava Lorenzo Pescosolido che sfruttava uno dei tanti troppi errori di una difesa che prima di oggi aveva incassato 24 reti a fronte di 31 segnate e proprio alla vigilia di questa partita di provvedere a